. Heidi Klum e la sua straordinaria beauty evolution Heidi Klum ha iniziato la sua carriera ad Hamburgo in seguito a una laurea in fashion design, poi però si è trasferita a Parigi, Milano, Miami e infine a New York. . L'evento che l'ha portata all'apice del sistema moda internazionale è stata la sfilata Victoria's Secret Fashion Show. Dagli esordi fino ad ora i traguardi professionali raggiunti sono stati molto importanti, la sua carriera è in continua evoluzione, proprio come il suo look. . . Quando è arrivata a New York nel 1993 aveva i capelli castani, in seguito però è diventata famosa per il suo biondo impeccabile. . Oggi Heidi Klum non è più la stessa ragazza che sfilava per Victoria's Secret, ma rimane comunque una splendida donna che ha rifiutato di ritoccarsi il viso per sfoggiare sempre la sua naturale bellezza. La beauty evolution di Heidi Klum. . . Il make-up di Heidi Klum non è mai stato eccessivo e ancora oggi, la modella preferisce valorizzare i suoi lineamenti senza esagerare. Nel 1998 la Klum era stata protagonista della rivista Sports Illustrated, mostrandosi quasi del tutto senza make-up. . . Anche i suoi capelli erano molto diversi da ora, naturalmente Heidi Klum è castano scuro. . 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